numero 5 casseruola rotonda in ghisa vetrificata a forma di cuore dal diametro di 20 centimetri ideale per arrostire e brasare carne e verdure o per la preparazione di stufati e zuppe dotata di coperchio in ghisa vetrificata con pomolo resistente al calore adatta a tutte le fonti di calore induzione compresa ottima cottura degli alimenti vetrificazione chiara interna resistente ai graffi facile da pulire a mano o in lavastoviglie disponibile nel colore rosso ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 4 casseruola ovale in ghisa con coperchio per la preparazione di deliziosi arrosti o stufati ottima per servire e mantenere al caldo le pietanze grazie alla distribuzione uniforme del calore adatta a tutte le fonti di calore induzione e forno compresi a un diametro di 29 centimetri ma è disponibile anche in altre misure e colori made in france dotata di ampie maniglie per una presa salda vetrificazione interna nera opaca resistente e di lunga durata lavabile a mano o in lavastoviglie ottimo rapporto qualità prezzo trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 casseruola rotonda in ghisa dal diametro di 20 centimetri con manico resistente al calore ideale per servire e mantenere al caldo le pietanze grazie alla distribuzione uniforme del calore dal basso verso le pareti struttura in ghisa ad alta ritenzione del vapore per cotture perfette adatta a tutte le fonti di calore induzione compresa coperchio con foro per favorire la fuoriuscita del vapore facile da pulire a mano o in lavastoviglie disponibile nei colori rosso ciliegia nero e arancione idea regalo per gli amanti della buona cucina se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 2 casseruola rotonda in ghisa per arrostire e brasare carne e verdure ideale anche per la preparazione di stufati e zuppe la struttura in ghisa garantisce una cottura perfetta adatta a tutte le fonti di calore induzione e forno compresi la cocotta un diametro di 26 centimetri è disponibile in diversi colori progettata per durare nel tempo dotata di grandi maniglie per una presa salda anche durante il trasporto vetrificazione interna chiara resistente e di lunga durata ottimo rapporto qualità prezzo in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 1 tegame basso in ghisa vetrificata dal diametro di 30 centimetri con coperchio dotato di pomolo in acciaio inox resistente al calore ideale per servire e mantenere al caldo le pietanze grazie alla distribuzione uniforme del calore la struttura in ghisa garantisce una perfetta cottura e stufatura questo tegame è adatto a tutte le fonti di calore induzione e forno compresi ampi manici per una presa salda e un trasporto comodo e sicuro resistente ai graffi made in france facile da pulire a mano o in lavastoviglie disponibile in diversi colori puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione di questo articolo cliccando nel link in descrizione